Non dica niente, ma abbiamo meno di un minuto, però io la domanda ce l'ho dritta, dritta da farle. Mattia Felti l'altro giorno scrive, Renzi va in procura e dice non mi fido di voi, IPM, in fondo è un uomo davanti ad altri uomini, non un peccatore davanti ai sacerdoti. Un bel passo verso la normalità. Perché non si fida dei suoi giudici? Io non soltanto ho detto questo, ma ho detto ai giudici guardandogli in faccia, voi avete violato la Costituzione, io non ho violato le leggi. Vede Merlino, io ho un pubblico ministero che è quello che ha arrestato mio padre e mia madre, indagato tutti i miei amici, perquisito i miei amici e che ha indagato me, che per me ha violato la Costituzione. Vedremo se è vero. Procuratore capo della Repubblica, Creazzo, che è stato sanzionato in via disciplinare dai suoi colleghi del CSM per molesti e sessuali, e il terzo giudice PM che avevo in quell'interrogatorio, che si chiama Anastasi, che era sulla scena criminis, qualcuno dice inquinando la scena criminis, nella devastante vicenda di Davide Rossi. Allora io dico, ci sono due strade. La prima è far casino e iniziare a far polemica e fare tutto confusione mediatica e dire io mi sono perseguitato. La seconda è quella di un ex presidente del Consiglio che rispetta le istituzioni, che guardando negli occhi i giudici dice voi avete violato la Costituzione per me, ma io sono qui perché rispetto le istituzioni di questo Paese. Allora io non ho alcun tipo di complotto da evocare. Ho tre magistrate di fronte a me, utilizzo le armi della legge e della giustizia, andrò in tutte le sedi a chiedere giustizia. Sa perché? Perché io so di non aver violato la legge. Spero che loro non abbiano violato la Costituzione. Partavano Mattia Feltri, c'era chi si dipendeva nel processo, Andreotti, chi si dipendeva dal processo, Berlusconi, e chi invece mette in discussione i magistrati che è la terza via di Renzi. Io semplicemente dico che la giustizia si svolge e si esercita nei luoghi della giustizia. Andremo in aula e discuteremo. Però andremo in aula a viso aperto, diceva Dante, di farinato. Ho finito il tempo.